Benvenuti a questo nuovo episodio di MMA Talks Podcast, un episodio che non sarà povero di riflessioni, discussioni, quelle che ci siamo portati dietro dal weekend appena trascorso di Mixed Martial Arts e in particolare lo specifico da UFC 247, evento il cui main event particolare ha fatto discutere per diversi giorni appassionati di questo sport per il suo esito, che di fatto è stata la quattordicesima vittoria di Jones in un match titolato in UFC, record assoluto della promotion, andremo a parlare però anche degli altri protagonisti dell'ultimo evento numerato dell'Ultimate Fighting Championship, in particolare Valentina Slicenco, De Nigue e Derrick Lewis, ma anche altri, dedicheremo una finestra, una breve parentesi a Yuri Lapicus, il nostro connazionale, insomma ne abbiamo parlato nello scorso episodio, il procinto di affrontare un match molto importante di un certo rilievo in one e questo match non solo l'ha vinto ma l'ha assolutamente stravinto, insomma con una performance assolutamente eccezionale di cui parleremo e infine anche una presentazione del prossimo evento UFC che avrà come elemento particolare per noi appassionati italiani la presenza di Mara Romero Borella, quindi insomma tanta carne al fuoco, poco tempo insomma per perdersi in uniti di ciance, prima però le presentazioni, da questa parte del microfono Stefano Summa, dall'altra Giovanni buongiorno, ciao Giovanni. Ciao Stefano e ciao a tutti. Allora come detto, UFC 247 dominato nelle discussioni dal esito del main event che ha visto appunto Jon Jones sconfiggere Dominic Reyes e tenersi stretta alla cittura di light heavyweight, campione light heavyweight in UFC, con una decisione unanime del verdetto dei giudici 48-47, 48-47 e 49-46, insomma un verdetto che ha fatto discutere molto così come le prestazioni, le performance che in particolare Jones e Reyes hanno messo in mostra all'interno della gabbia in quel di Houston, discussioni che si sono accumulate e che hanno travalicato anche necessariamente l'incontro in sé, andando insomma a toccare argomenti molto complessi come i metri di giudizio di un match di MMA, di come si devono valutare, quali potrebbero essere le eventuali soluzioni alle strutture dell'attuale sistema di valutazione degli incontri, insomma tutta una serie di discussioni di cui cercheremo in un modo o nell'altro in maniera ordinata e il più possibile chiara e comprensibile di affrontarli uno per uno e cercare insomma di venire a capo di qualche valutazione interessante in merito. Direi Giovanni prima di parlare dell'incontro magari round per round e eventualmente parlare insomma anche dell'argomento del judging per così dire, dell'incontro in MMA, direi di fare una valutazione generale sull'incontro in sé e sulle performance dei singoli protagonisti dell'MN Event, direi come incontro sicuramente un ottimo incontro, un incontro che valso la pena vedere, magari messo a confronto per esempio paragoni che mi è venuto in mente nell'immediato al match tutto lato come poteva essere stato l'anno scorso Gaston con la Desagna, forse è mancato di qualche cosa a livello di spettacolarità sicuramente però credo che alla fine dell'anno se magari non sarà, a meno che appunto sperando che se sia un'annata particolarmente fortunata a livello di ottimi match di MMA, se non sarà magari a fine dell'anno tra i top 5 sicuramente questo match potrà essere tra i top 10 tranquillamente sicuramente nei top 15, insomma 25 minuti di ottime mixed martial arts, di eccellenti mixed martial arts. Andando nello specifico delle prestazioni direi John Jones ha messo in mostra un'altra performance da campione consumato pur con qualche appunto che gli si può muovere oltre a quelli che erano già stati mossi all'epoca a seguito della performance contro Tiago Santos se forse quel match aveva più impressionato per l'aspetto fisico forse per il fatto insomma per i tanti leg kick che il brasiliano riuscì a sferrare nei danni Jones tali che costrinsero tra l'altro appunto John Jones a uscire dalla gabbia accompagnato da uno dei coach per le condizioni critiche appunto di una delle sue lunghe leve. Qui forse l'aspetto è stato più strategico, più fine, più tattico da un certo punto di vista nella capacità appunto di Reyes di metterlo ampiamente in difficoltà nei primi third round, in particolare nel primo e nel secondo, al punto tale che per esempio, giusto cito questa cosa prima di andare nello specifico dei round, in alcuni momenti si è visto Jones proprio arretrare, non dico scappare però allontanarsi in maniera evidente dal diretto avversario in qualche cosa che se non dico non abbiamo mai visto però sicuramente raramente abbiamo visto fare da John Jones quindi un'altra performance John Jones stratega sicuramente ispirato insomma dei suoi coach di Jackson Wink che ha cercato sempre di far valere la propria esperienza anche il livello di intimidazione a volte che riesce a suscitare nei suoi diretti avversari consigliato sempre di non, anche nei momenti in cui sembrava insomma a livello di analisi del match sembrava che avesse perso almeno i primi third round se non addirittura anche il terzo, i coach gli hanno sempre consigliato comunque di rimanere fedele alla strategia di non cercare mai, di non incitarlo a cercare una finalizzazione, a cercare di dare una svolta al match soddisfatti da quello che stavano vedendo quindi insomma un John Jones altamente stratega che in questo modo chiaramente fa valere la sua classe, la sua esperienza e questa non gliela si può sicuramente negare, dall'altra però lo ha esposto nel match precedente e anche in questo match ad alcune situazioni rischiose che potevano mettere a repentaglio la sua imbattibilità di fatto non solo da campione della Light Heavyweight Division ma in generale da fighter del MMA visto che di fatto comunque John Jones ha perso una volta ma di fatto non è mai stato veramente battuto in un incontro di Mixed Martial Arts. Dall'altro lato invece Dominic Reyes assolutamente promosso, diciamo una performance da 8, per se vogliamo metterla in voti, fighter che non ha assolutamente mostrato a fin dei primi minuti alcun timore reverenziale nei confronti dello sfidante, ha sistematicamente nei primi due round e anche nel terzo messo in mostra il giusto atteggiamento di giusti accorgimenti tattici nel affrontare viso aperto John Jones, citiamo giusto uno in particolare, la capacità di disinnescare subito una delle prime armi difensive diciamo di difesa proattiva di John Jones che sono i calci, i particolari calci obliqui, quel modo appunto di cercare insomma di tenere sempre da parte di John Jones di sfruttare la distanza a proprio vantaggio per evitare situazioni pericolose. Dominic Reyes ha dimostrato di saper sempre mettere in mostra una certa lateralità, una certa capacità di movimenti laterali per trovare angoli d'attacco e questo l'ha fatto in maniera direi ottima nei primi due round e per buona parte anche nel terzo round andando a segno a sua volta con una varietà di colpi, con calci, un ginocchiato e colpi diretti al corpo e magari non sempre diciamo a piena forza ma comunque con una certa frequenza anche con pugni al volto, in particolare sinistro insomma su arma. Si è confermata arma molto pericolosa, ciò che gli ha impedito al di là del risultato del match su cui appunto magari dibatteremo a lungo di raggiungere se non dico il 10, forse il 10 sarebbe stato eccessivo ma sicuramente il 9, è stato comunque un evidente calo di energie fisico dovuto per buona parte all'inesperienza in un match sulle 5 riprese nella capacità di gestire le energie nei cosiddetti championship rounds insomma si vedeva che comunque Reyes pur non perdendo del tutto la trebisonda per così dire, comunque rimanendo in un certo senso molto composto anche nei match, nei round che diciamo a livello universale insomma sostanzialmente ha perso il quarto e il quinto però in essi in queste stanze si è visto evidentemente un calo di energie dovuto al fatto che probabilmente non dico non si è reso conto però probabilmente non ha saputo tenere alcune energie spese nei primi round per rimanere diciamo per tenere il ritmo che stava tenendo nei primi 15 minuti anche nei successivi 10 sicuramente è stato sicuramente quel gap di esperienza che comunque gli si deve perché questa è stata la sua prima vera esperienza in un match titolato soprattutto che riporto al di là di tutto il bagaglio di controverse è sicuramente un grande campione di questo sport e molto probabilmente una leggenda insomma di questo sport. Giovanni ti ritrovi in questa diciamo visione d'insieme dell'incontro sull'incontro in sé insomma sulla qualità dell'incontro in sé e sulla qualità delle performance dei singoli? Ma assolutamente sì Stefano nel senso che in proporzione a me Dominic Reyes è piaciuto anche più di John Jones, John Jones sono un paio di match che stenta a piacermi perché sembra un po' che si sia contenti, che sia pagato, che non abbia più voglia di dimostrare ogni volta di essere il migliore, lui va lì cerca di portarlo a casa ai punti poi i suoi coach chiaramente appoggiano questa convinzione nel senso che ai punti pare che non possa essere battuto. Secondo me nella fatti specie in questa prestazione qui è stato ancora più in calo che con Diego Santos perché con Santos come hai detto giustamente tu aveva mostrato degli sprazzi di violenza fondamentalmente che lo contraddistinguono al massimo, quei calci obliqui che hanno infortunato il brasiliano sono emblematici in tal senso. Mentre in questo match più che altro si è speso per controllare tempo e controtempo degli attacchi e poi è finita che fondamentalmente ha esibito secondo me una prestazione un po' sottotono, sicuramente non figlia di tutte le sue abilità, ecco questo è quello che penso. Eh sì, nella vittoria John Jones non ha lasciato magari tante buone impressioni, pur comunque non necessariamente demeritando del tutto un'eventuale vittoria che poi effettivamente gli è stata segnata, dall'altro lato nella sconfitta Dominic Reyes forse ha guadagnato molto, per assurdo questa sconfitta è stata una vera e propria vittoria in un certo senso, sicuramente per certi aspetti è stata più considerevole, diciamo più lodevole di una delle sue precedenti vittorie in relazione anche alla carattura dell'incontro e alla carattura dell'avversario che ha affrontato. Direi di passare magari un po' velocemente per così dire, visto che se ne è dibattuto e tu ne hai anche scritto in particolare in maniera approfondita sull'ultimo uomo, su una breve analisi dei round, primi due round in maniera abbastanza universale, primi round di Romic Reyes, appunto fighter che è riuscito insomma a trovare via di uscita dalla pressione, da quel modo appunto di difendersi in maniera proattiva di John Jones e di andare a segno in più occasioni con colpi mano a mano sempre più precisi, sempre più forti, poi in particolare uno dei colpi più curiosi e più strani volendo è stato quel sinistro diretto al petto che ha fatto cadere John Jones, forse tecnicamente non è propriamente un knockdown. Ma non lo è, non lo è. Non lo è, tendenzialmente vedendolo dal vivo in presa diretta per così dire mi è sembrato quasi una spinta, però la telecamera faceva vedere Jones di spalle, quindi non si è visto nell'immediato il colpo, rivedendolo poi nel replay. Knockdown mi sembra un po' eccessivo, è sicuramente però un colpo pulito ed è un colpo che comunque ha dato il segno della capacità di Reyes di andare a segno in maniera significativa su John Jones. Assolutamente, sì, fra i colpi più significativi dell'incontro. Esatto, nel secondo round ridotta un po' alla semplice, sostanzialmente buona parte di questo che si è visto nel primo round si è visto anche nel secondo, in particolare si è avuto modo di vedere anche la capacità di Reyes di reagire a un improvviso cambio di livello da parte di John Jones. Jones ha provato a metterlo giù con un takedown, ma Reyes è fatto trovare punto, quindi ha aggiunto anche questo aspetto alla sua performance e diciamo ha messo in cascina indiscutibilmente per così dire il secondo round, il punto focale della discussione è stato sicuramente il terzo round. Leggendo l'articolo tu hai sostanzialmente dato il successo del terzo round a John Jones, io personalmente l'ho dato a Reyes, però devo ammettere che fino all'ultimo sono stato molto molto indeciso, quindi sostanzialmente posso sicuramente non trovo assolutamente scandaloso e questo mi fa dire, diciamo, del relato che tutti i discorsi di cosiddette roberi, di furto, di ladrata, già in generale di solito il 90% delle volte che vengono tirate fuori questi termini vengono tirate fuori in maniera assolutamente, per nulla attinente alla realtà, insomma in maniera assolutamente gratuita, a maggior ragione direi in questo incontro, questo terzo round che di fatto è stata la chiave del match, poteva davvero andare sia da una parte o dall'altra. Reyes che continua insomma a tenere ritmi e la qualità del suo lottare anche nel terzo round, però nelle parti finali John Jones, diciamo, sostanzialmente da metà round per così dire e man mano increscendo si è uscito un po' forse dal guscio, si è reso forse un po' conto del livello di sfida che gli stava portando The Devastator e di fatto ha reso molto molto difficile la valutazione di questo round, non da pareggio perché a un certo punto nei match titolati bisogna dare un voto da una parte o dall'altra, però è stato veramente molto molto difficile valutarlo Giovanni. Ma sì assolutamente, infatti ho detto che come prima cosa, che secondo me John Jones appunto l'hai descritta tu benissimo, hai scelto il momento giusto per far ripartire diciamo il suo orologio mentale perché tendenzialmente se avessi aspettato un altro po' quel round l'avrebbe sicuramente perso, invece secondo me è riuscito poi alla fine seppur nella conta contasse, non so, sei colpi significativi in meno mi sembra, comunque in totale equilibrio è riuscito a mettere quelli più importanti, è riuscito a esprimere secondo me quanto di meglio ci sia stato nel terzo round da parte del fighter migliore, ecco secondo me è stato lui anche se di pochissimo, è stato lì il momento in cui ha preso le retini dell'incontro in mano e quindi è riuscito ad imporre il proprio ritmo, è riuscito a rubare l'inerzia del match diciamo, c'è da dire che Reyes non ha sfigurato nemmeno nei round in cui ha perso, io sostanzialmente mi trovo d'accordo con il giudice Chris Lee che ha dato i primi due round a Reyes e gli ultimi tre a Jones, ma ripeto questo è un match che virtualmente va visto come un match pari e serve assolutamente un rimatch, non ho mai visto nessuno tener testa così bene a Jon Johnson, a parte probabilmente Gustafsson in quel match che come sappiamo Jones poi ha vinto in netta impennata negli ultimi tre round, però se possibile lì il calo di Gustafsson è stato ancora più netto di quello di Reyes in questo caso, quindi io credo che Reyes meriti assolutamente il rimatch che sia stato il fighter che ha messo più in difficoltà a Jon Jones sicuramente fino ad oggi, Jones offre delle prestazioni in netta discesa secondo me, probabilmente una sconfitta in questo caso gli avrebbe anche fatto bene dal punto di vista mentale perché sembra approcciare a questi match come se tutti i suoi avversari non fossero una sfida e poi tendenzialmente vince di misura, almeno nelle ultime due uscite è stato così, vince proprio davvero di misura, di pochissimo, di un soffio, fondamentalmente vedo la sua posizione molto più a rischio di come la vedevo contro Daniel Cormier, non perché i suoi avversari in questo momento siano più forti di Daniel Cormier, perché lui sembra cominciare ad approcciare i match in una maniera totalmente diversa e molto più triste secondo me, molto più, come dire, poco motivata, ma nemmeno in termini troppo di motivazione perché poi come vedi nelle ultime riprese riprende il ritmo e riparte alla grande, secondo me è proprio un atteggiamento sbagliato che non so, deve assolutamente cambiare, non è sicuramente il modo in cui ci ha abituato a vederlo in gabbia questo, anzi sembra in netto calo, ma non sono nemmeno d'accordo con chi dice che è in calo, perché lui ha chiuso la quinta ripresa in totale tranquillità, in totale pacatezza, non lo so, mi sembra un mindset piuttosto strano quello con cui affronta. Si è messo nel mindset dello stratega, lì credo che ci sia molto, come dicevo, del coaching, insomma, delle istruzioni che riceve dall'angolo, che poi lui chiaramente, insomma, nella gabbia ci va lui e quindi a un certo punto le decisioni le prende lui su cosa fare o non fare, però questo è un concetto che è ben impiantato nella sua testa, diciamo, forse ci sono due aspetti, c'è l'aspetto della superiorità, è consapevole di essere in media, per esperienza ormai, ma anche per talento naturale, superiore alla maggior parte dei suoi contendenti, probabilmente diciamo in un discorso sulla carta, per così dire, anche dopo questo match, Jon Jones è superiore a Dominic Reyes, l'altro aspetto collegato a questo è appunto quello della strategicità, cioè lui cerca di mantenere sempre un certo ritmo costante, di non lasciarsi andare come poteva fare magari in passato, diciamo, nella prima fase di Jon Jones giovanile, ha una certa inventività che comunque lui procede ancora, insomma, comunque con i colpi che mette a segno come da un punto di vista tecnico sono un qualche cosa che altri ci metterebbero una vita a impararli, a farli bene come lui, quindi comunque c'è ancora quel germe di creatività e di innovazione nel suo striking, nella sua abilità di combattere, di tirare di MMA per così dire, però ormai è entrato in questo mindset, io sono superiore, io so come gestire un match e quindi mi mantengo su questo, non ricevo input diversi dai miei coach e quindi mi comporto in questa maniera, non rendendosi forse conto che in determinate situazioni, oppure rendendosene conto, arrivato proprio al limite del cilio e del burrone, che questo atteggiamento contro certi avversari che lo studiano da una vita, perché magari hanno avuto, insomma, occasione di vederlo prima ancora di combattere contro lui, di vederlo in azione, rendendo conto che ormai lo hanno studiato e in un modo o nell'altro stanno cercando, stanno scrivendo il cosiddetto libro per battere John Jones, per così dire. Beh, ma Jones può essere battuto, io credo che lui se ne sia accorto, soprattutto negli ultimi due match, il volerlo a tutti i costi che era adesso nella divisione dei pesi massimi si ridimensiona un po', perché non lo so fino a che punto vogliamo vedere un fighter del genere, non so se, comunque le sue skills sono sicuramente alla portata della divisione, però secondo me c'è delle caratteristiche che magari lo mettono in difficoltà arrivato a un certo punto quando deve affrontare uomini più grossi, proprio in questo senso, e mi riferisco alla box, mi riferisco al fatto che colpisce a colpo singolo, che non ama caricare sicuramente al controllo del tempo e del controtempo, come ha mostrato anche con Reyes, e finirebbe comunque per demolire magari sulla lunga distanza i suoi avversari, anche perché come abbiamo visto, superate le tre riprese e l'uomo migliore in gabbia, probabilmente ha capito questo lui del suo fisico, del suo modo di combattere, è un motore diesel se vogliamo in questo senso, però non so fino a che punto un John Jones del genere, un Jones come l'ultimo che abbiamo visto, riuscirebbe a conquistare anche la corona dei massimi, cioè il Jones dell'altra serie contro Miocci ce lo vedo male, non so te. Ma guarda, giusto per rimanere in questo tema, anche nei round che ha vinto sostanzialmente, comunque diciamo che ha vinto in buona parte per lo striking, ma anche per il wrestling, lui ha ottenuto i takedown a un certo punto nel quarto e nel quinto round, però da questi takedown poi alla fine non è uscito fuori nulla, per merito in buona parte anche di Reyes che comunque ha saputo uscire da queste situazioni, e questo va ad un altro aspetto a favore, che depone a favore di Reyes, però non è riuscito anche in quelle situazioni, anche nei round, a suo favore a avere lo stimolo, forse avere l'intuizione per trovare una finalizzazione, è proprio un, non so chiamarlo blocco, oppure è difficile da definire, è difficile per chi non è mai combattuto in MMA, ma comunque anche per chi ha un'esperienza di MMA anche minima, comunque arrivare a quei livelli, arrivare a capire come funziona la mente di un fighter di questo livello, a quei livelli di competizione con quello della UFC. Ma qui paradossalmente, probabilmente, può capirlo di più un all time great di un altro sport, ancor più che un fighter di livello un po' più basso, cioè lì si va a ragionare secondo me proprio in ottica di legacy, in ottica di, cioè tu entri nella gabbia, sai quello che devi fare, sai come ti devi comportare, dovresti sapere come ti devi comportare per ottenere la vittoria, comunque un fighter che fa ad oggi soprattutto dell'esperienza, anche una delle sue carte migliori, lo abbiamo visto che poi particolarmente nella gestione è davvero forte, se Jones ti vince una delle due riprese è improbabile che se non lo finalizzi vinci il match contro di lui, perché poi sappiamo che anche contro Santos l'ha fatto vedere, l'ha fatto vedere contro Gustafsson, l'ha fatto vedere contro Cormier, lui nelle ultime riprese è davvero stellare, cioè gli basta il tempo di prendere il ritmo e di imporlo, cioè non abbiamo mai visto un fighter cambiare il ritmo del match contro Jon Jones nelle ultime riprese, semmai riesce uno dei suoi avversari è riuscito ad imporre il ritmo del match all'inizio ma poi è finito sempre per perderlo poi nel corso delle riprese, perché Jon Jones è bravo a fare questo e fa questo comunque. Eh sì, sì, insomma, un fighter che si sta abituando insomma a dare il massimo a un certo punto di vista nei championship round, bisogna vedere insomma quanto possa durare diciamo questa, quanto possa sostenersi ancora questo regno che comunque al momento fattualmente rimane incontrastato nella Light Heavyweight Division e vedendo poi effettivamente se poi ci sarà qualche sbocco effettivo in un eventuale passaggio a Heavyweight. Uno degli aspetti che diciamo ha alimentato il dibattito su questo match, in un certo senso forse un po' l'ha avvelenato, nel senso che forse si è parlato forse un po' meno degli aspetti tecnici apprezzabili di questo incontro e più dell'aspetto non meno importante periferico rispetto alla qualità del match, del judging, è stato appunto il cartellino di uno dei giudici, Joe Solis, per la precisione, che ha dato sostanzialmente la vittoria dei round, di quattro round a Jon Jones e ne ha concesso solo uno a Dominic Reyes, diciamo un cartellino che anche nel suo complesso senza entrare nello specifico è oggettivamente errato, insomma per quello che si è visto e per quello che è stato diciamo diciamo il sentire comune espresso da social, dal sito MMA Decision e tutto il resto più che altro Giovanni, diciamo questo ha scatenato insomma il vario dibattito, le varie proposte su come migliorare, lo strumento del giudizio degli incontri dell'MMA con varie ipotesi, cosiddetto open scoring, cioè la pubblicazione per così dire, l'annuncio pubblico dell'andamento dei cartellini da round a round. Secondo me non cambierebbe, quella cosa non cambierebbe molto secondo me l'andazzo poi dei match, sì puoi pubblicarla al momento ma cioè ti cambia poco perché non è che tu poi in corso d'opera lo vai a cambiare quel giudizio, rimane comunque quello che hai segnato, di solito non è che vediamo correzioni sui cartellini dei giudici quindi non è che servirebbe particolarmente una misura del genere, potrebbe servire matematizzare ancora di più cioè il range dei colpi ad esempio significativi da tanto a tanto puoi, cioè se c'è una differenza ampia anziché dare il 19 si dà il 18 ad esempio ma con differenza ampia intendo proprio un'indicazione numerica perché altrimenti non ha senso, perché altrimenti torniamo sempre punto e a capo e questo regolamento rimane comunque a interpretazione molto lata e quindi anche loro possono avere difficoltà non mi rifaccio a Joe Solis che non so che cosa abbia visto in questo match il cellulare probabilmente come lo hanno rimproverato di fare ma cioè a parte quello dico al di là di lui anche Chris Lee secondo me ha valutato il match nella maniera più corretta nel senso delle prime due riprese per Reyes e le ultime tre per Jones ma cioè anche lui aveva le stesse indicazioni degli altri giudici secondo me questa indicazione alla luce di tanti risultati che poi risultano controversi secondo me l'interpretazione è troppo lata cioè non è specifica e deve essere un po' più specifica ecco per aiutare i giudici anche per far contento fra virgolette il pubblico nel vedere un match che sia un po' più omogeneo nei risultati dei cartellini no? Sì diciamo che io sto presentando le ipotesi ma in un certo senso è anticipato una valutazione che condivido insomma anche per esempio l'idea di aggiungere altri giudici invece di fare tre giudici metterne cinque cioè diciamo che il problema di fondo secondo me è l'incompetenza di base perché comunque le soluzioni secondo me ha senso sperimentarle ha senso provare a cambiare qualcosa ha senso magari provare Antonio Lopez scoring per vedere cosa succede ha senso magari aggiungere altri due giudici per vedere cosa succede non penso che cambi nulla ma sono pronto diciamo a essere smentito a vedere le mie impressioni assolutamente smentite e mi auguro nel bene però di fondo secondo me c'è una questione di incompetenza di base che tra l'altro l'aspetto più pericoloso diciamo più inquietante per certi aspetti è che in molti casi di incontri mal giudicati per così dire c'era per così dire la cosiddetta scusa del fatto che alcuni di questi giudici dominati dalle commissioni atletiche venivano trasportati dalla box e portati al mondo dell'MA con tutte le enormi differenze che questo passaggio può comportare perché magari c'è qualcuno che è particolarmente appassionato però diciamo in media sono giudici che si trovano a giudicare quasi tutto un altro sport per così dire in questo caso specifico invece Joe Solis che tra l'altro hanno scritto anche il nome sbagliato nel cartellini questo dice molto anche della qualità della commissione atletica del Texas è un istruttore certificato di varie arti marziali in particolare anche di MMA cioè l'incompetenza è abbastanza diffusa e coinvolge anche persone che in teoria dovrebbero essere abbastanza preparate nel valutare un incontro di MMA adesso noi abbiamo parlato molto nel bad event ma anche nelle altre incontri della preliminary card ci sono stati varie discussioni sulla valutazione dei match di Giles contro James Krause sempre con protagonista anche Joe Solis che ha dato un 30-27 a Giles che insomma ha fatto gridare lo scandalo nel match di Warren Murphy insomma la vittoria della Murphy per decisione per decisione è stata piuttosto controversa nel match contro Andrea Lee insomma lungo tutta la card ci sono state situazioni particolarmente controverse la riflessione pessimistica che faccio è che la cosa assurda di questo sport è che è uno sport ormai mondiale per portata no? La UFC è una lega mondiale sportiva di assoluto rilevo magari non famosissima e non dalla stessa portata un NBA di un NFL o di un mondiale di calcio però insomma si fa bene rispettare ormai però di fatto l'aspetto importante fondamentale della componente del regolamento del fatto del far rispettare i regolamenti è in mano a entità statali singole non federali cioè non una almeno negli Stati Uniti una commissione atletica nazionale che non che il centralismo sia necessariamente una virtù in per sé però permetterebbe di uniformare in maniera più possibile e magari dare anche la possibilità di istruire in maniera più uniforme eventuali giudici del MA e in mano ai singoli Stati quindi può capitare di andare nel Nevada dove in media anche se magari ogni tanto insomma anche lì succedono piccoli disastri però bene o male ormai c'è un certo know-how su come valutare e come gestire dei venti del MA anche dal punto di vista dell'anti-doping e anche sull'anti-doping per esempio il Texas non è mai stato un grande stato non solo nell'anti-doping ma anche nella box insomma non si è mai fatto a distinguere per la qualità del proprio lavoro ma può capitare appunto di finire anche in Stati dove non c'è il know-how non c'è l'esperienza dove non ci sono le persone che sono veramente competenti dell'MMA dal punto di vista del giudizio dal punto di vista della gestione delle regole dal punto di vista dell'anti-doping cioè queste commissioni atletiche sono organi politici con tutto ciò che un organo politico può comportare in termini di valutazione del competenza di valutazione del merito di incapacità o di non volontà di mettere in posizioni importanti come può essere la valutazione di un evento del genere di un evento sportivo di rilevo del genere mettere delle persone competenti insomma secondo me di fondo c'è il fatto che per questi aspetti regolamentari l'MMA sia ancora uno sport molto immaturo io lo trovo francamente abbastanza ridicolo come trovo molto ridicolo anche il fatto che stiamo ancora uno sport con all'interno degli stati uniti lasciando stare tutto il resto del mondo all'interno degli stati uniti con due regolamenti diversi che poi in realtà sono anche più di due perché alcuni stati adottano le vecchie regole ma adottano anche alcuni particolari delle nuove regole alcuni stati adottano le nuove regole ma si tengono alcuni particolari delle vecchie regole ci sono veramente una decina di regolamenti diversi di fatto che sono diversi da stato singolo americano da stato singolo americano cioè è un qualche cosa di dalla fonte che è completamente ridicolo per uno sport del genere che si picca e di fatto lo è uno sport globale so che siamo andati un po' larghi con questa riflessione ma di fatto poi la sostanza gli effetti le conseguenze di questi problemi di fondo si vedono poi in match del genere sì assolutamente stefano ma si potrebbero anche formare degli individui che poi di base io credo che li formino ma non ci può non ci può essere una differenza così neta per un'angolazione diversa dal vedere un match mi rifaccio sempre cioè abbiamo questo esempio prendiamo questo esempio mi rifaccio sempre a joe solis lui che cosa ha potuto vedere per considerare 49 a 46 ovvero solo il primo round lui ha assegnato a dominic race che cosa ha visto per 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 assegnare quattro round a jones perché se è vero che gli ultimi due round e il terzo direi io però gli ultimi due round sono certi no li abbia vinti lui lui come ha fatto a vedere secondo e terzo round in maniera simile al al quarto e al quinto è una cosa che non riesco assolutamente a spiegarmi cioè qui c'è ci deve essere una mancanza di serietà ci deve essere qualcosa ora mi rendo conto che sono accuse pesanti cioè ma avrà avuto un lapsus non ne ho idea cioè che problemi ha potuto avere per vedere un match in una maniera così distorta dalla realtà mi domando non sarebbe stato cioè non è io ripeto per me e mi rifaccio a quello che dicevi prima la parola furto rober in un match di mma va usata con molta cautela ma cioè io credo che avergli dato il secondo round quella sì che potrebbe poi essere vista come una roba e ricosa di cui johnson non avrebbe nemmeno colpa mi segui quindi cioè si tende poi ad andare a prendersela con con il fighter roba che che ce non sta né in cielo né in terra perché per l'incompetenza appunto di certi organi secondo me comunque ricordo allora che ci fu anche una un'altra giudice che ebbe dei problemi simili fu forse addirittura sospesa dalla commissione atletica del nevada se non erro alelin bird esatto nel caso di canelo e colovkin esatto giudica anche il pugilato ricordo quelle potrebbero essere delle pene che magari se non risolvono il problema comunque lo assottigliano cioè io non saprei nemmeno come descriverla io ricordo ancora adesso masvidal contro alla ia quinta non so chi fossero i giudici allora quella fu un'altra decisione abbastanza scandalosa cioè chi più ne ha più ne metta mi sembra impossibile come dice tu giustamente improbabile che nel dopo una una ventina d'anni di sport comunque assodato ci siano ancora questo tipo di problemi questo tipo di problemi che ci tengo a sottolineare si si legano anche al al regolamento non nel caso di solis però può essere il caso degli altri due giudici perché l'altro giudice che in questo momento non ricordo chi fosse oltre christian lee marcos rosales sì ok perfetto lui ha visto ad esempio il secondo round nelle mani di jones cosa che anche qui c'è non riesco a comprendere sicuramente noi saremmo avvantaggiati con le telecamere televisive però c'è quanto può vedere diverso un match una un giudice che lo lo segue dal vivo non lo so la soluzione ripeto secondo me sarebbe apportare delle piccole modifiche al regolamento che lo rendano ancora più netto nel nel cambio poi del del giudizio perché così siamo veramente abbastanza lontani dalla realtà mi rifaccio appunto al al giudizio di solis sì sì no assolutamente insomma qualche cambiamento può essere insomma leggevo un articolo di atleti che no che provava a mettere insomma sul tavolo alcune possibili migliori o cambiamenti appunto in questo argomento e per esempio si ipotizzava la possibilità di togliere i giudici dal bordo gabbia e metterli in un ambiente in una stanza con vari monitor che gli permette di avere una visuale effettivamente migliore di quella che può essere nell'immediato bordo gabbia da un solo lato che effettivamente può essere un po' limitativo nel momento in cui l'incontro si sviluppa in altre parti della gabbia potrebbe essere questa una soluzione come potrebbe essere anche una cosa che hai detto tu riguardanti i significant strikes di fatto i giudici in questo momento cioè in questo momento da anni ormai così hanno praticamente sono di fronte alla gabbia hanno un foglio di carta e una penna e basta non hanno alcuno strumento non hanno alcun monitor non hanno alcuna possibilità di vedere i tanti numerelli di cui poi noi dibattiamo significant strikes ha messo più colpi di quello e di quell'altro loro nell'immediato non le vedono queste cose ma infatti è molto di più un impatto no è molto di più una decisione di impatto certo assolutamente sì anche un monitor stesso ma questo match in particolare sarebbe stato comunque difficilissimo da giudicare io ci tengo qui a dire che con Gianluca con Gianluca Faellutti sono un paio di giorni che ne parliamo molto amichevolmente stiamo polemizzando sul fatto che va detto lui ad esempio vedeva il terzo round in favore di Reyes l'ha riguardato come l'ho riguardato io da me si è rafforzata la convinzione che Jones avesse fatto qualcosa in più e da lui si è rafforzata la convinzione che Reyes avesse fatto qualcosa in più quindi per assurdo se fossimo stati noi due i giudici sarebbe già uscita una una split decision comunque io reputo di capirne un minimo come so e sono certo che lui ne capisce altrettanto e comunque siamo in disaccordo su questo incontro e in particolare su quel round perché poi nel resto dei quattro li abbiamo visti tutti e due alla stessa maniera dico però in questo caso particolare sarebbe stato davvero difficile ma un aiuto comunque ci vuole ai giudici per semplificare la loro vita in questo senso il loro lavoro sì sì diciamo che questo incontro come incontro equilibrato non è diverso da tanti altri però ci sono stati diciamo alcuni aspetti diciamo di questo incontro legato appunto insomma al 49 46 oggettivamente abbastanza inspiegabile che inducono che hanno indotto a varie discussioni e che eventualmente anche da parte della UFC che di fatto comunque non ha responsabilità dirette in tutto questo nel senso che diciamo prende accetta il verdetto come l'abbiamo accettato tutti noi magari da parte della UFC di Bellator ci potrebbe essere diciamo una spinta a dei vari dalla ABC insomma all'insieme delle commissioni atletiche a effettivamente rimettere mano a intanto a chiarire questa cosa delle vecchie nuove regole è unificarle cioè unificarle almeno esatto del tutto e magari aggiungere nel contempo alcune novità al sistema e al al modo in cui effettivamente vengono messi in condizione i giudici di di lavorare di effettivamente apportare alcune modifiche alcune novità che potrebbero migliorare e non necessariamente renderne fabbili perché comunque può capire insomma può esserci problema di incompetenza di fondo però effettivamente alcuni strumenti di più potrebbero effettivamente ridurre l'impatto che l'incompetenza può avere nefasto sui match di sulla votazione dei match di MMA direi di chiudere questa ampia parentesi sul main event ma effettivamente era dovuta data l'importanza necessità assolutamente e aggiungo anche un'altra piccola parentesi per favore Gianluca torna ci manchi tanto al podcast chiudo parentesi e passo al common event della serata qui dominio direi assoluto di Valentina Savchenko che vince con diciamo un TKO in posizione di crucifix l'ottava fighter a ottenere una vittoria di questo genere in UFC dopo nomi del calibro di Gary Goodrich, Matt Hughes, Don Yun Kim, Paul Kelly, John Jones e Daniel Cormier e Tyson Pedro, Valentina Savchenko si è aggiunta a questo parterre di nomi tenendosi stretta la cintura di Women's Flyweight in UFC ad Alino Akiting Chukagian che di fatto Giovanni in nessuno dei tre round di fatto, due round e un minuto del terzo ha dimostrato veramente di poter colmare in qualche maniera l'evidente gap di livello che c'era tra le due. No, infatti la Shukagian come avevamo detto anche nella puntata precedente era abbastanza completa in tutto però era proprio di un livello diverso rispetto alla Shukenko e la Shukenko è di un livello diverso secondo me rispetto a tutte le sue contendenti in questa divisione di peso, infatti questa è stata proprio manifesta superiorità ma io spero davvero che ritorni nei pesi Gallo anche perché rappresenterebbe il solo ed unico ostacolo ad Amanda Nunes, vero ostacolo e poi ad oggi lo si vedrebbe come di nuovo due campionesse a confronto, se prima la Shukenko non aveva ancora la cintura quindi era una un crowned champion adesso sarebbe a tutti gli effetti un champ contro champ avrebbe un fascino in più sicuramente, poi sappiamo che i match fra loro due sono stati davvero estremamente equilibrati appunto sulla falsariga di quello fra Jones e Reyes addirittura c'è chi dice che il primo match lo avesse vinto Valentina fra le due quindi perché no avrebbe più senso di tante altre trilogie secondo me senza metterci nello specifico a parlarne Sì, anche per una questione fegata al fatto che nella divisione del peso flyweight c'è qualche contendente che sta emergendo, comunque che può emergere, diciamo quella un pochino più titolata forse al momento è Joan Calderwood ma l'impressione in generale che a meno che la Shukenko capiti in una giornata evidentemente storta, clamorosamente storta però il suo pacchetto completo nello striking nel wrestling e nella gestione dell'incontraterra è nettamente superiore a quella delle altre in questo momento le women's MMA almeno a questi livelli non esprime abbastanza contendenti come quelle maschili, è probabilmente un limite di gioventù diciamo di questa parte dello sport che non attira ancora forse talenti naturali tali che possano effettivamente mettere a rischio diciamo i reni di queste campionesse o si scontrano tra di loro in un modo o dell'altro una nuova regina, quale poteva essere insomma il caso di quello che è successo con Ronda Rousey nel momento in cui incontra una Oliolm, l'Oliolm vince ma nel momento in cui arriva una Magna Nunez, arriva una Nunez e vince nel momento in cui una Nunez infronta una Shukenko, una di queste due super campionesse perde insomma alla fine ci si riduce a far scontare questi mostri sacri di queste categorie e il resto diventa diciamo piccolo capotaggio senza mancare di rispetto ovviamente a Shukenko e tutte le altre sfidanti No ma per forza di cose è evidente, cioè si vede proprio che la Shukenko è su un livello diverso così come lo è Amanda Nunez secondo me in quelle due divisioni nella fattispecie e poi in quella dei pesigallo ancora di più quindi io direi che è l'ora di chiudere la trilogia Eh sì sì, è lo scenario più affascinante per così dire rispetto a quello che ci può lasciare nell'eredità Valentina Shukenko da questo incontro Nella main card quello che non è stato formalmente nominato come Fight of the Night che è stato Travis Giles contro James Krauss ma che poteva andarci molto vicino è stato sicuramente il match tra De Nige e Mirsad Betkic a Featherweight con la vittoria di De Nige per Split Decision 28-29, 29-28, 29-28 ci aspettavamo un incontro divertente e spettacolare che questi due hanno mantenuto la promessa per così dire con Unige che ha vinto il primo e il terzo round ma un Betkic che si è reso onore anche nei stessi round in cui ha perso ma in particolare nel secondo in cui è riuscito a mettere in difficoltà Ige in particolare con il wrestling è andato vicino comunque si è messo in buon punto la possibilità di poter concludere il match per sottomissione con quel triangle show che poteva effettivamente permettergli insomma di strappare successo da Ige Ige però che si è dimostrato in generale dei due fosse il fighter più composto un pochino più esperto, un po' meno irruento per certi aspetti di fatto poi nel terzo round stimolato anche dal suo angolo ha rimesso diciamo la chiesa in mezzo al villaggio per così dire e si è portato a casa una vittoria assolutamente meritata immagino che anche tu sei rimasto colpito insomma dalla qualità delle performance che impressione ti ha lasciato Ige e ti allego in relazione a Betkic il fatto che questa sia la prima volta in carriera che subisca delle sconfitte consecutive e questa è stata anche la prima sconfitta per decision nella sua carriera quindi insomma purtroppo per lui un'altra prova onorevole però si stanno accumulando un po' di sconfitte questo sicuramente a livello di immagine un po' ne offusca comunque gli indubi meriti tecnici e fisici del bosniaco ma guarda è stato secondo me l'upset più importante della serata in termini poi di valore dei fighter che ci sono stati nella main card io non me l'aspettavo sinceramente credevo che Betkic potesse vincerlo questo match anche abbastanza agilmente ti dico la verità ma Ige si è comportato benissimo ha vinto senz'altro prima e terzo round almeno secondo me quello in cui ha subito il grappling dell'avversario ovvero il secondo lo ha perso abbastanza nettamente anche perché Betkic comunque dal punto di vista del grappling è davvero molto molto forte, capace, esperto anzi non è riuscito poi più ad imporlo nel terzo probabilmente anche per un calo del cardio comunque delle energie ma tutti e due si sono comportati bene secondo me poi Ige ha assolutamente meritato di vincere lo ha voluto di più ha utilizzato bene il jab ha utilizzato bene le distanze è riuscito ad avere la meglio poi dalla lunga mentre nel momento in cui si è entrato in grappling si pareva non trovare poi parecchie risposte al grappling di Betkic però non si è fatto sottomettere ha avuto un'ottima difesa ed è riuscito a resistere fino alla fine nell'ultimo round che poi ha portato a casa e quindi ha contribuito alla sua vittoria sì sì assolutamente questo è un altro match che magari non te ne ha diciamo nella storia per così dire probabilmente nella classifica finale del 2020 potrebbe scendere qualche posizione però è un match che se capita di rivederlo o di vederlo per una volta sicuramente non ci si annoia non particolarmente esaltanti però almeno un KO si è visto sono stati i due incontri da Heavyweight nella main card il KO è stato messo a segno da Justin Taffa che ha preso il testimone lo spirito di Mark Hunt esatto il testimone avrei detto ma tu l'hai messa un pochino più poetica perché sei più diciamo il più fantasioso dei due lo spirito di Mark Hunt piazzando diciamo quel montante che di fatto ha spento le luci a One Adams che ha dimostrato di non essere diciamo pur nel contesto magari non sempre eccellente per così dire di Heavyweight in UFC comunque non ha dimostrato di essere del livello di questa promotion come onestamente non mi ha fatto una grandissima impressione di fatto Ili Irlatifi nella sconfitta per decisioni unanime 29-28, 29-28, 29-28 contro Derek Lewis sì, apprezzabile lo svedese tra l'altro ci si è messo un po' a vederlo ricordandolo come fosse bello tirato bello in forma a Light Heavyweight vederlo con le manine dell'amore più stesso di un maialo come direbbe il peruncello Heavyweight è stato un po' un certo colpo d'occhio si è fatto apprezzare sicuramente per aver neutralizzato il più possibile il pericoloso striking di Derek Lewis con diverse insomma fasi a parete ha piazzato dopo varie insistenze a takedown diciamo in lotta libera greco-romana per così dire fallendo invece nei single leg però a terra e in generale in piedi non ha fatto poi vedere praticamente nulla ci sono state alcune fasi in cui Derek Lewis aveva la guardia aperta per così dire e la Tifi non ha nemmeno provato a prendere la monta piena insomma onestamente questa tra l'altro è la terza sconfitta di fila per la Tifi la più lunga striscia negativa della sua carriera non vince dal febbraio del 2018 onestamente merito a Derek Lewis da un lato a cercare di gestire il match nei limiti delle sue possibilità con una certa insistenza a cercare la ginocchiata volante che è riuscita a piazzare meno un paio di volte se non più dall'altro lato invece il passaggio a heavyweight non è poi stata non si è almeno rivelato in questa occasione una grandissima idea ma non davvero direi adesso anzi in un limbo davvero forse più brutto che in precedenza nei massimi leggeri non ha saputo dire molto ha accumulato delle sconfitte qui al suo esordio mi è parso davvero spento mi è parso come un fighter che volesse stallare il match il più possibile tant'è vero che ha pure ricevuto delle chiamate dei richiami da parte dell'arbitro Derek Lewis invece stranamente mi è parso con più cardio del dovuto nei late rounds questo mi fa molto piacere perché si è saputo gestire molto meglio in un'altra occasione è saputo tornare alla vittoria con una grande intelligenza secondo me sapeva che cosa si doveva aspettare da Latifi e lo ha arginato molto bene è riuscito a a sprollare anche non necessariamente facendo il movimento completo di sproll e a bloccare diversi takedown di Latifi ha saputo tenere anche il match in piedi in più occasioni alla fine quando si è arrivato ai cartellini non pareva lui molto convinto di poter vincere però invece la sorpresa è stata è stata probabilmente forte anche per lui però alla lunga probabilmente è stato giusto il decreto questa volta il verdetto dei giudici secondo me Lewis meritava di vincere il match alla fine Latifi ha soltanto tentato di bloccarlo non molto di più sì 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 diciamo d'accordo su tutta la linea insomma su innanzitutto la valutazione dei giudici di questo incontro che di fatto direi a questo punto chiude la nostra analisi abbastanza lunga di UFC 247 e come detto per le parentesi italiane per così dire parlando iniziando da un match che si è disputato si è disputato venerdì scorso nell'ultimo evento One avevamo annunciato insomma la grande occasione di Yuri Lapikus per continuare il suo percorso positivo nella promotion asiatica e farlo contro un atleta del calibro di Gaforov e beh Giovanni ne ha approfittato a piene mani ha disputato una grandissima prestazione e ottenuto una grande vittoria mamma mia impressionante mi aspettavo potesse creare problemi a Gaforov nonostante Gaforov sia un ex campione One e anche M1 poi si combatteva nella divisione di peso che è più cara a Yuri e quindi credevo che potesse fare bene ma così bene non me lo sarei mai aspettato ma nemmeno nella più rosa delle mie aspettative davvero ha concluso come meglio ha potuto ha imposto ottima fisicità all'inizio lo ha praticamente gli ha mozzato ogni tipo di footwork con quei low kick a scuola Petro sia nella grande gli ha gli ha mozzato anche parecchie certezze secondo me perché poi quando è andato in takedown Gaforov non è riuscito nemmeno per un attimo ad avere il controllo della situazione Yuri lo ha ribaltato praticamente subito ha preso la schiena e lo ha sottomesso non so se sia durato davvero 30 secondi è durata meno di un minuto sicuramente ed è stato un grande grande match c'è una grandissima presentazione di Yuri Lapikus al resto del mondo sì match appunto durato un minuto e sette secondi nel primo round vittoria diciamo ufficiale per Irnick Hitchcock seconda vittoria consecutiva insomma nella promotion asiatica dopo un match del genere risultato del genere verrebbe facile sicuramente noi lo spereremmo ma verrebbe facile effettivamente pensare se non magari nell'immediato comunque nel breve medio termine ha una chance titolata per la cintura di proprietà di Christian Lee insomma ci si sta andando molto vicino e sarebbe una grande grande occasione ovviamente per lui per il team Petrosan ma soprattutto per le MMA italiane che ultimamente insomma hanno avuto relativamente poche gioie per così dire sì ti hai detto bene poi quest'anno diciamo particolarmente da parte sua essendo questa anche una comunque una promotion internazionale di una certa importanza è partito bene da questo punto di vista quindi cioè io direi che ha poco da chiedere se non se non il titolo praticamente sì sì assolutamente questa veramente una bella notizia delle MMA italiane come ci auguriamo oltre al fatto che è attestato che essere citati su MMA Talks Podcast forta fortuna quindi fighter italiani fate la fila per essere citati da noi perché vi portiamo fortuna come speriamo porti fortuna alla nostra citazione a Mara Romero Borella che nel prossimo weekend insomma sostanzialmente quello alle porte sarà in azione nel prossimo evento della UFC in scena a Rio Rancho nel New Mexico card che sarà caratterizzata dal main event dalla sfida all'Itev tra Corey Anderson e Jan Blakovic eventualmente con in palio una title shot per il campionato della Corea John Jones un common event lisergico tra Diego Sanchez e Michelle Pereira che per chi se lo fosse dimenticato Michelle Pereira era il fighter che aveva deputato facendo capriole in ogni dove quindi chissà poi con Diego Sanchez che cosa possa venire fuori veramente un match da MMA ignoranti diciamo per così dire e ovviamente insomma il match della nostra rappresentante UFC Marrobero Borello contro Montagna della Rosa una buona sfida per ripartire nel suo percorso in UFC direi sì che di meglio probabilmente non si poteva arrivato a questo punto e poi alla sua portata comunque la della Rosa è un bellosso duro comunque è una fighter che per Mara può segnare anche il ritorno comunque ai piani alti della classifica giustamente l'ultimo non era andato proprio benissimo speriamo che questo sia il momento della svolta anche per Mara perché contro Lauren Murphy secondo me stava anche facendo bene soltanto che lei è riuscita a sfruttare il momento probabilmente meglio e quindi ad imporre poi quella carica che ha portato al TKO su Mara adesso contro la della Rosa appunto come dicevamo ha l'occasione di rifarsi la della Rosa è in positivo comunque in UFC a quota 4-2 fino a questo momento sicuramente non si tirerà indietro è una fighter che fa del ground game su punto forte e quindi come Mara potrebbe scegliere e decidere di affrontare la sua avversaria al terreno è un match sicuramente non facile da pronosticare io penso però che la Borella possa abscedere la sua in questo match deve stare attenta comunque sì deve stare attenta perché di fatto nella carriera propriamente detta in UFC diciamo tenendo la parte di incontri nell'Ultimate Fighter che sostanzialmente sono l'exhibition bout non sono propriamente gli incontri veramente propriamente detti la Montagna della Rosa ha subito solo una sconfitta per decisione unanime contro Andrea Di e ha sempre vinto per sottomissione quindi chiaramente la lotta a terra quello che potrebbe succedere a terra sarà un elemento fondamentale sarà molto probabilmente il fulcro della sfida magari da un punto di vista tattico una e l'altra cercheranno di dare il ricorso alla lotta al tappeto e magari ci regaleranno un match di puro striking però di fatto credo che effettivamente un po' per le caratteristiche delle due fighter un po' per quello che ci hanno fatto vedere poi alla fine di un mondo nell'altro si finirà a terra e la capacità di gestire dei fasi di cercare sottomissione di difendersi sarà fondamentale però di fatto comunque è una sfida che diciamo la migliore Mara Romero Borella può comunque portare a casa e ovviamente ci auguriamo che lo faccia e chiaramente insomma il match sarà oggetto di ampia discussione immaginiamo nel prossimo episodio di M.A. Talks Podcast ricordiamo in coda che ovviamente i nostri contatti i nostri riferimenti ci potete trovare ovviamente su Facebook Instagram Twitter come sempre il gruppo Telegram per discutere di MMA per commentare di episodi per varie iniziative che ci possono venire in mente diciamo dalla discussione in quale possiamo coinvolgervi direi a questo punto vi ringraziamo per l'ascolto da questa parte il microfono vi saluta Stefano ciao a tutti e da questa parte Giovanni ciao a tutti e al prossimo episodio con M.A. Talks Podcast Ciao a tutti